CSMT è un centro di ricerca, è una istituzione, è una società capitale misto pubblico e privato senza scopo di lucro, avente per missione la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, allo scopo, in sintesi, di stimolare e diffondere l'innovazione e questo oggi più che mai è possibile solo operando con un approccio di sistema, di rete e la rete inizia il suo cammino ampio internazionale coinvolgendo in primis le realtà presenti all'interno dello stabile del CSMT. Ecco allora che in logica win-win abbiamo stretto alleanze ancora più forti con l'Università di Brescia, tra l'altro nostro importante socio, il CNR, aziende, start-up, spin-off, operanti nei più svariati settori. Così da poter offrire al territorio, insieme alla nostra sede di Gardone-Valtrompia, officina Liberty, l'energia e la capacità di aggregazione dell'Innovative Contamination Hub di Brescia. La sinergia all'interno del polo tecnologico fra i componenti del polo appunto e l'Università si concretizza non solo in azioni di supporto al territorio, supporto di diffusione della tecnologia, addirittura di ricerche, ma anche in fatti concreti tipo utilizzo di laboratori situati in CSMT, laboratori universitari, che collaborano per l'aiuto a queste richieste che vengono dal territorio. Ci sono alcune parole chiave in questo laboratorio di ricerca del CNR, Istituto Nazionale di Ottica, che mi piace sottolineare, della collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia e con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Brescia. E qui, grazie alla collaborazione fra questi diversi enti, si fa ricerca nel mondo della sensoristica. Il sensore è una cosa bellissima, che consente di amplificare le potenzialità dei nostri sensi e quindi di capire meglio quello che succede attorno a noi, sia per scopi fondamentali, sia per scopi applicativi. AB Horizon è una realtà innovativa, che aiuta le persone a migliorare la qualità della propria vita, creando oggetti unici nell'ambito del benessere. Horizon One è un oggetto altamente distintivo, poiché unisce i concetti di meccanica, tecnologia e arte e aiuta le persone ad allenare tutti i muscoli del corpo in meno di un metro quadrato. Grazie all'avanzato sistema di intelligenza artificiale, riuscirai ad allenarti in completa sicurezza, vivendo un'esperienza di allenamento unica. Scegliere Horizon One significa scegliere di vivere un'emozione, attraverso un oggetto che unisce concetti di eleganza e stile. L'IFOS è l'associazione italiana dei formatori della sicurezza sul lavoro che si occupa di insegnare questa materia con nuove metodologie, con un sistema nuovo che vada oltre l'aula. IFOS Service è la società di servizi del network IFOS. Si occupa della progettazione e gestione dei percorsi formativi e dell'orregolazione dei corsi in modalità e-learning tramite la nostra piattaforma digitale. L'obiettivo della nostra associazione è quello di partire dalla formazione e dall'esperienza in ambito formativo per creare una sorta di rete e soprattutto un terreno fertile che arrivi poi ai cittadini, a ognuno di noi, creando questo senso di autoprotezione e di resilienza che può essere utile ovviamente in caso di calamità e non solo. Antares Vision è leader mondiale nella tracciatura del farmaco, cosiddetto track and trace. Oggi anche in nuovi settori come il food and beverage, la cosmetica, il medicale e il fashion. Inoltre è leader nella computer vision, che è la mission dell'azienda fin dalla sua fondazione, abbinato allo smart data management. I nostri percorsi di ricerca sono vari e orientati all'innovazione. Questo perché le sfide dei mercati ci richiedono competenze sempre più spinte. Lavoriamo per raggiungere un mix di conoscenza con un approccio multidisciplinare, tenendo sempre presente che qualsiasi sviluppo deve essere un prodotto, sia hardware o software, facile da usare, conveniente e utile. L'Aquem è un centro di servizi tecnici alle imprese, nato nel 1982 con lo scopo di servire il territorio nazionale nell'ambito del testing, della consulenza e della formazione tecnica, con particolare riferimento alle aziende e alle società che si occupano di metallurgia e meccanica. La nostra struttura sviluppa attività di testing, avendo a disposizione ben 16 laboratori che operano dalle prove meccaniche alla failure analysis, che è uno dei punti di forza della nostra società. Completano poi i servizi, le attività di formazione tecnica e di consulenza tecnica, tutte finalizzate a fare in modo che le imprese e i nostri clienti possano incrementare la competitività dei loro prodotti e dei loro processi sui mercati internazionali. Questo centro nasce nel 2011 dalla volontà di Beretta di individuare uno spazio fuori dall'azienda in cui il personale dedicato potesse occuparsi a tempo pieno della concezione, dello sviluppo di idee e progetti di innovazione. Tra le tematiche trattate ci sono la sensorizzazione delle armi, l'internet of things, l'acustica, i servizi per la smart city, la biomeccanica applicata al tiro al volo e la fluidodinamica computazionale. Ci occupiamo di sviluppo software a 360 gradi. Non abbiamo un contesto di business specifico perché il nostro lavoro è quello di affiancarci ai nostri clienti che operano in qualsiasi settore, dalla finanza d'impresa all'automazione industriale all'ambito medicale e affiancarli per aiutarli nella loro evoluzione tecnologica, aiutarli a sviluppare il loro business sfruttando la tecnologia che noi gli mettiamo a disposizione. Formula si offre al mercato come partner per la trasformazione digitale, un compito che svolge da oltre 50 anni sul mercato italiano e che offre tutte le soluzioni legate sia al mondo operation sia al mondo della governance. Sistemi IRP, sistemi CRM, sistemi MES, sistemi per la pianificazione della produzione, sistemi per la performance management e questo ci permette di offrire alle aziende italiane un'expertisa e strumenti per poter offrire la vera trasformazione digitale. Fragma Security è una startup nata all'inizio del 2020 che si occupa di sicurezza delle informazioni. Quindi i nostri servizi sono legati al mondo degli assessment, penetration test, vulnerability assessment, al mondo della compliance, agli standard normativi internazionali, in particolare alla ISO 27001. Questi aspetti li traduciamo anche nel mondo dell'operation technologies in quanto l'Italia è un paese produttivo ed sarebbe limitante non considerare tutto quello che riguarda la produzione e l'industria cyber security. Gexel nasce nel 2007 come società spin-off dell'Università degli Studi di Brescia e sviluppa prodotti e servizi dedicati al mondo del rilevamento tridimensionale. Il software Reconstructor, che è apprezzato per la potente capacità di processamento di dati 3D provenienti da vari sensori laser scanner, ed Aeron, che è uno dei migliori sistemi di indoor mapping presenti sul mercato. Growens è un gruppo industriale integrato che opera nell'ambito delle digital marketing application, ovvero delle applicazioni per il marketing digitale, la cui mission è quella di abilitare le aziende nell'efficientare la comunicazione verso i propri clienti. Ad oggi Growens è un gruppo di 5 business unit, ovvero 5 prodotti, con 300 persone, che opera a livello globale e che offre soluzioni di predictive marketing, content creation e bomile messaging. Iterm è una startup nata nel 2021 che sviluppa sistemi di controllo e regolazione per il mondo del condizionamento e gli impianti di ventilazione. Abbiamo ideato una famiglia di regolatori basati su una moderna piattaforma IoT in grado di rispondere alle diverse esigenze del mercato, dai piccoli impianti commerciali fino alle grandi macchine a servizio delle aziende manifatturiere. A completamento dell'offerta, proponiamo ai clienti una serie di servizi che riteniamo indispensabili per il successo della nostra attività, come l'assistenza tecnica pre- e post-vendita per garantire sempre la massima attenzione ai nostri clienti, il servizio di teleassistenza e telecontrollo che permette ai clienti di monitorare i loro impianti in ogni parte del mondo e l'elaborazione dei dati di processo in ottica manutenzione predittiva per evitare i clienti costosi fermi in macchina. In genere è un SRL Benefit nato a maggio 2022 sulla scia degli ESG, ambiente, sociale, governance ed è specializzata proprio nella consulenza organizzativa orientata all'inclusione, alla diversità e al genere. Sono temi che vanno affrontati in maniera molto pratica. Questo vuol dire avere la capacità di monitorare per esempio i numeri all'interno, le percentuali delle diversità che ci circondano, imparare a valorizzarle, imparare a capire come ciascuno di noi ha dei talenti, magari un po' nascosti e tirarli fuori, armonizzarli in un sistema assolutamente sostenibile. Intera è una start-up che si occupa di progettazione e sviluppo di dispositivi in ambito medico, in particolare di dispositivi per la chirurgia mini-invasiva. Intera offre oltre 20 anni di esperienza nell'industria medicale a servizio di medici ed aziende. Il servizio di Intera copre le attività di progettazione, fattibilità, prototipazione, le attività di supporto alla brevettazione e le fasi di ingegnerizzazione di prodotto. Intera supporta inoltre nelle fasi precliniche e regolatorie di certificazione di prodotto. La mission di Inksense è quella di riuscire a rendere gli oggetti intelligenti tramite quindi l'applicazione di sensori e circuiti su oggetti che sono già esistenti. Di conseguenza, oltre alla loro funzione naturale, sono in grado di percepire le grandezze naturali che li circondano, elaborare questi dati che strappolano e successivamente andare a condividerli con altri oggetti o con dei server. L'idea è dunque quella di applicare dell'intelligenza tramite delle tecnologie di elettronica stampate, quindi tramite manifattura additiva, riuscire a fornire questa nuova intelligenza e quindi creare del valore aggiunto rispetto all'oggetto tradizionale. Aereo è una società di consulenza nel settore idrico che fa ricerche indipendente a livello internazionale di tecnologie innovative per le utility del mondo dell'acqua e anche per tutte le industrie che utilizzano acqua e nei loro processi produttivi. Quindi noi aiutiamo queste aziende a ridurre i costi nel trattamento dell'acqua, a trovare soluzioni che consentono di ridurre il loro impatto ambientale, di rendere la gestione più economicamente sostenibile e di meglio rispondere alle normative. ETL, Italian Technology Lab, è uno spin-off dell'Università degli Studi di Brescia che si occupa di sviluppo di nuovi prodotti basati sull'impiego di polimeri o elastomeri. La vocazione iniziale della società è orientata nello sviluppo di prodotti, di device biomedicali e competenze che vanno dal design all'ingegneria meccanica all'ingegneria dei materiali. Kairos Innovation è una spin-off dell'Università degli Studi di Brescia che si occupa di sviluppare progetti di ricerca in collaborazione con aziende nel settore metallo-meccanico. La finalità è quella di sviluppare dei processi e dei prodotti innovativi con i nostri partners. Utilizziamo diversi strumenti, tra i quali modelli numerici e analitici per l'ottimizzazione di diversi processi industriali nell'ambito di processi di deformazione plastica come la forgiatura o lo stampaggio a caldo e a freddo e processi per asportazione di truciolo come la microfresatura. Il nostro progetto principale riguarda il mondo dell'orologeria. Infatti, le nostre competenze nel campo della meccanica di precisione ci hanno permesso di sviluppare nel corso di tre anni un orologio meccanico a carica manuale interamente progettato e costruito nei nostri laboratori. In seguito alla produzione dei componenti, grazie all'utilizzo di sofisticate macchine di misura, siamo in grado anche di eseguire un controllo qualitativo dei pezzi da noi prodotti. L'area SIN-9 si occupa della progettazione e della realizzazione di software in ambito medico, industriale e scientifico, sia standardizzati che specifici per il cliente. Realizziamo software dispositivo medico occupandoci di tutto il lavoro di certificazione, realizziamo software per applicazioni industriali, realizziamo software per applicazioni di visione artificiale e di metrologia. L'azienda mette in campo competenze per la scelta di tecniche realizzative ed algoritmi che permettono l'elaborazione di grosse masse di dati, quali ad esempio volumi biomedici come TAC e risonanze magnetiche, anche pesate in diffusione e in contrasto di fase, TAC industriali, grosse quantità di dati geometrici come nuvole di punti e superfici triangolate di grosse dimensioni. L'azienda è in grado di realizzare internamente tutto ciò che serve per realizzare componenti software di sufficiente qualità ed efficienza. Nel caso in cui il software viene realizzato per un cliente specifico, il cliente è coinvolto in tutte le fasi della realizzazione e l'azienda è in grado di occuparsi di tutti gli aspetti, da quello certificatorio legale, quello contrattuale, quello progettuale, quello realizzativo. IQ2 è un'azienda nata nel 2011 che si occupa di sviluppare e vendere software di simulazione per la pressocolata e servizi per le aziende del mondo della fonderia. Ci contraddistinguiamo dagli altri competitor per l'innovatività dei prodotti che proponiamo sul mercato. Noi operiamo come consulenti, come società che fa supporto nell'ambito dell'ingegnere meccanica, quindi sviluppiamo progetti ad hoc per i nostri clienti, analisi strutturali e analisi termiche, oltre che CFD. Nell'ambito dell'automazione abbiamo sviluppato sistemi di controllo di macchine automatiche. Nell'ambito dell'ingegneria informatica, invece, abbiamo sviluppato software sia di natura scientifica ma anche come interfaccia per macchine sempre di tipo automatico. Rurola è una società attiva nell'ambito della digitalizzazione dei processi agricoli e zootecnici. La sua mission è quella di favorire e accelerare la creazione di un'infrastruttura digitale nei territori rurali, con l'obiettivo di ottenere per il sistema paese un unico punto di raccolta e di conoscenze a disposizione di tutte le società che in questo ambito offrono servizi a valore aggiunto. Rurola si muove secondo due direttrici. Nella dimensione orizzontale, l'obiettivo è proprio quello di sostenere la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta dati e l'architettura che possa rendere questi dati a disposizione di diversi soggetti. Un'altra dimensione è quella verticale, in cui Rurola trasforma i dati che raccoglie in informazioni utili alla tracciabilità. Nella logica di ciò che a livello di non europea si intitola spesso con il nome del Farm to Fork. Stema è la prima community platform italiana dedicata al mondo ingegneristico. Siamo una vera e propria piattaforma con da un lato le aziende, dall'altro lato gli ingegneri. Dal punto di vista delle aziende, le aiutiamo ad estrarre il loro DNA ingegneristico e a raccontarla ai giovani talenti in modo tale da interessarli, proporre dei progetti. Dall'altro lato invece c'è il mondo dei talenti che formano una community molto folta di giovani ingegneri. Il nostro scopo è stato quello di portare a questi ragazzi e queste ragazze con un background tecnico quelle informazioni che loro volevano riguardo al mondo del lavoro. E per farlo abbiamo riportato le loro richieste alle aziende che hanno di fatto poi all'interno della nostra piattaforma riportato tutte quelle informazioni che potessero interessare a questi talenti sul mondo del lavoro e quindi facilitare alle aziende poi un punto di talent attraction per queste persone. Trim Informatica sviluppa applicazioni software a supporto dell'operatività di fabbrica. Adaptive MES è la soluzione di Trim per la gestione dell'avanzamento della produzione. Un secondo ambito di specializzazione è la piattaforma Visual Quality a supporto di tutte le fasi di controllo qualità ed in particolare la raccolta di difettosità. Trim Informatica ha implementato la World Class Manufacturing Suite che supporta la gestione centralizzata di progetti finalizzati all'ottenimento di zero infortuni, zero rifiuti, zero guasti e zero giacenze. UAU è un'associazione non-profit nata con l'intento di aiutare i ragazzi a sviluppare al meglio le proprie competenze umane. Siamo qui per fare in modo che attraverso dei laboratori che facciamo con dei coach professionisti riescano a capire esattamente cosa voglia dire entrare in contatto con il proprio talento. Dopodiché abbiamo quattro percorsi differenti che vanno ad orientare i giovani in quattro differenti aree. La prima è un orientamento verso il mondo digitale, la digitalizzazione e la transizione digitale. Il secondo percorso è quello legato alla sostenibilità verso un mondo e una transizione ecologica che ancora oggi è importante e fondamentale per tutte le aziende del territorio. Il terzo è un percorso di orientamento verso il project management non tanto come professione ma come metodo di lavoro e ultimo ma non per importanza il corso di orientamento nel mondo commerciale che aiuta i giovani a scoprire quali sono le soft skills che servono per essere dei buoni venditori e degli ottimi consulenti di vendita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!